Ciao a tutti ragazzi, io sono Jarkus e benvenuti in questo nuovo primo video su Minecraft Allora, abbiamo deciso, diciamo, Yevvales di fare Minecraft perché siccome, diciamo, allora ci piace come gioco, no? Perciò diciamo che porteremo diversi tipi di contenuti, per esempio proveremo a portare delle mappe CTM insieme Oppure anche delle mappe survival, cioè nel senso fare un nostro mondo da zero insieme, anche però minigames, perciò varieremo Però oggi diciamo che io mi ammazzerò un poco, ovvero farò parkour Pronti? Ci vediamo in game Ok ragazzi, allora, siamo, diciamo, entrati nella mappa parkour che dobbiamo giocare, che devo giocare Dove mi vedrete sclerare un bel po' La mappa si chiama, mi pare 42 level, se non sbaglio, comunque, poi in caso se mi ricordo vi lascio il link dove scaricarla in descrizione Comunque, allora, vediamo, questo tipo è quello che ha creato la mappa, che oltre che è una figata assurda Comunque, a parte questo, no? Vediamo Ok, i blocchi sono Questo ci teleporta, questo cambia Questo, non ho intuiti, fantastico Questo ci mangia Poi queste si distruggono dopo poco tempo Bridge, non so che, penso che sia, ci fa alzare Fa proprio l'effetto del pistone, ci fa alzare Questo qui ci rende ciechi Abbastanza, questo qui un pochino di meno Questo ci fa cambiare gravità e sembra una cosa fighissima Poi questo qua Non so che significa Non so che significa Poi questo qui ci dà velocità, jump boost e ci ammazza Perfetto Ok, iniziamo col primo livello Allora, vabbè i primi livelli sono facili Ora muoio, guardate per come ve l'ho detto Perfetto Fantastico, prima run Ok, questo qui ci dà il jump boost, giusto? Giusto Ok, via Uno Due Tre No, eh Prima Via uno Poi Due Vai Già siamo a due morti Già siamo a due morti Tac Vai sul cubetto Bravissimo Perfetto Questo qui ci darà la velocità Ecco Manco prendo la velocità che crepo Ok 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 No, prendi la velocità Perfetto Vai Perfetto Perfetto Vai Ok Ok Oh, calmo Ok Mi sa Quanti blocchi sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Ok, devo prendere la velocità e saltare Tipo Così No Overfly Fa il culo Riproviamo Ok Via col salto Ok Arrivato No, vabbè Minchia Io sono un coglione Però Vabbè Rifacciamolo Fermati Shift Perfetto Ok Corsa Salta Cristo Rifacciamo Ok Così Non salta Non posso tirare mouse e tastiera Perché sono nuovi Allora tiro qualcosa Giuro che ora tiro qualcosa No È mai possibile che non riesca a saltare Ok Salta Grazie Non così tanto Non così tanto però Salta Fermati Shift Fuori Corsetta Perfetto Salta Shift Salta Perfetto Fatto Dovevo semplicemente Aspoli Inchia Questo qui No Vabbè Ok Perfetto Inizio nei livelli Rompipalle Slime Vai Ok Perfetto Chi ha questa giro Ok Shiftiamoci all'esterno Così Vedro di merda Ok Proviamo Così Perfetto Ok Finché sono col jump boost Sono una minchiata Il problema è quando è che saranno senza jump boost Cioè devo fare il salto al giro Con il blocco bianco normale Perfetto No Fermati Fanculo Ok Riproviamo Ok Perfetto Ok Si sono minchiate Ok Perfetto Vai Salta Fermati Fermati Non saltare così tanto Cazzo Quando non mi serve Salta assai Quando mi serve non salta E quando sono un coglione cado Tipo quindi sempre Vabbè Quindi già 14 volte sono stato un defi Scusate Non lo faccio più 15 volte sono stato un coglione stavolta Cioè in questa 16 16 Perché sono un deficiente Perché è facile Ok Ok No Salta 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 Mi è finito il jump boost Perché mi sono shiftato Ok Fermati Ok Perfetto Non cadere Testa di cazzo Ok Così Finisci il jump boost Vai nelle scale Perfetto Ok Shiftati nel vetro Ok Ok Questo Minchia che figo Tra parentesi Comunque vai Ok Cazzo è il livello degli enchantment Di qua Fare tutto il giro Fantastico Mi piace questa cosa Non è vero Fermati Ok Colpa mia Ancora Anzi Ancora questi qua Sono i livelli facili Io voglio vedere Quando arriviamo Tipo al livello 42 Cioè Minchia Secondo me Tipo Il prossimo anno Ci arrivo al livello 42 Cazzo Ok Ma scusa Perché dovrei fare Sta cosa Cittata Cioè lui voleva No Sei pazzo Vabbè A posto Poi Livello Set Ok Questo qui Faceva Show you the path Ah No Minchia Ti mostra il percorso No Sei pazzo Proviamo Ah ok Così è facile Minchia Te lo spona pian piano Vabbè Così è una minchiata Ok Molto più facile Di quello che pensavo Ok No 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 Eh No Ci siamo capiti Per un cazzo Ci siamo capiti Noi Ok No No Dovevo fare lo sprint Testa di cazzo Che non sono altro Ok Fermati Perfetto Ok Uno Due Tre Quattro Testa di cazzo Testa doppiamente di cazzo Perfetto Dicevamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci E Undici Perfetto Ci siamo Di nuovo Questo Fantastico Ok Perfetto Salta Ok Ok Perfetto Allora Arriviamo fino Al livello Dodici E ci fermiamo Gli facciamo questo Il prossimo E basta Ok Allora Così E questo Passaggio Perfetto No ma perché Mi dai questo No Ecco perché Mi dai questo Perché sei un maledetto Figlio di puttana Me lo dai Daffanculo Perfetto Sbaglio Blocco Cazzo Salta Beh proviamo a saltarne due insieme Dato che abbiamo il jump boost Speriamo sta cosa Ci arrivo Ci arrivo Però mi devo shiftare Appena arrivo Subito Ok No 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 Velocità Perfetto Ok Grande Shiftata Perfetto Ok 11 Cos'è sta cosa Vabbè facciamolo Questo qua che cosa significa La gravità Che figata Soltanto che crepo Fantastico Ok Li dovevo evitare questi Ah mi serve qua la gravità Sì Ok No Non dirmi che ha tempo Oh cazzo Vero E di qua No Non di qua Cos'è l'arancione Vabbè non mi serve Perché Per caso l'arancione Ti leva tutti gli effetti Per caso No per dire Sì Mi sa che Arancione Ti leva tutti gli effetti Quindi dobbiamo fare così No Non così Facciamo una cosa del genere No Ok Forse Forse Potrei aver capito Allora Ok Proviamoci Non ti arriviamo qua Perfetto Perfetto Ok Poi facciamo così Perfetto E mo Di qua Forza Perché non ho altre strade Ok Facciamo tutto il giro Che figata Però sta cosa Ok Da questo lato Perché quello mi dava tutto Ok Questo mi leva l'effetto E cado Perfetto Ok Livello 12 Facciamolo Sì Tanto c'è tempo Sì No Facciamo che arriviamo al 15 E poi ci fermiamo Che tanto poi con Con l'editing Vengono Circa 10 minuti No Aspetta No Minchia Ho capito che si deve fare Esatto Madonna Questa è pazzia Pazzia No Ok Così Perfetto Ok Show you the path Stai prendendo per il culo? Penso che tu mi stia prendendo per il culo Ok Ok Ce l'ho fatta Non so come ho fatto Però ce l'ho fatta Ok Livello Livello 13 Va bene Minchia Sono appizzata tipo calamita Però vabbè Ci sta Bordello No Sei pazzo Sei pazzo No Sto gioco Chi è che l'ha fatta E' un maniaco E' un malato Dai Veramente Vai Vai Va Fermati Ok 14 Vai Minchia Mi sto gasando troppo No I paletti No No I paletti No Non mi piacciono I pezzi di vetro Peggio ancora Ok Salta Ok Salta Jump boost Devo andare a finire No Là Dove cazzo devo finire? Qua Forza Ok Va bene No 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 Che sono un cretino Ho cliccato control Dopo che ho fatto Space Cioè Dopo che sono saltato Ho iniziato a correre Che cazzo di senso c'ha Poi me lo spiego Va bene Ok Di nuovo Lo stavo facendo Deficiente Che non sono altro Minchia Questo mi da la speed Ok 15 Ok Ci fermiamo qua Ok Il video è finito Diciamo che Abbiamo Sclerato Sclerato abbastanza Ho fatto 43 morti In un video Per dirla Comunque Perché Ho sta skin di merda Perché non ho la mia skin Vabbè Ok Ho capito Nel prossimo video Vedete la skin giusta Comunque Lasciate un like Se vi è piaciuto Condividete il video Con tutti i vostri amici E noi ci rivediamo Al prossimo video Bella